salve amici ecco le offerte parkside dal 12 giugno abbiamo una pompa ad immersione molto potente 400 watt comportata massima di 10.000 litri all'ora considerate che in pratica sono 165 litri al minuto quindi capite bene che potete svuotare una piscina anche molto molto relativamente velocemente insomma 165 litri al minuto vuol dire che in 10 minuti riusciti a togliere 1650 litri ad esempio certo non se avete una grande piscina e non per niente la fanno vedere con una piscina gonfiabile può essere anche utile se abitate vicino a un corso d'acqua e nel vostro comune è permesso irrigare prendendo l'acqua da questo corso d'acqua ovviamente la temperatura massima dell'acqua è 35 gradi quindi non si possono fare travasi di liquidi caldi a temperatura superiore ai 35 gradi ha un cavo di collegamento lungo 10 metri quindi di tutto rispetto quindi potete portare l'acqua anche a una certa distanza il motore ha la protezione da sovraccarico quindi una cosa piuttosto piuttosto utile poi abbiamo il classico irrigatore impulsi che costa 20 30 euro 29 99 direi un ottimo prezzo e quindi si può senz'altro prendere se abbiamo un giardino soprattutto se vogliamo tenere il prato all'inglese infatti è per superficie addirittura fino a 490 metri quadrati quindi più grande rispetto ai giardini che normalmente abbiamo nelle nostre case chi ha la fortuna di averle ovviamente perché non tutti abbiamo la fortuna di avere un giardino poi abbiamo il classico computer da irrigazione che costa solo 10 euro quindi costa molto poco ecco questo è molto 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 interessante perché con indubbiamente ecco l'unico problema può esserci se si sta molto tempo fuori casa bisogna stare attenti a chiudere bene le le guarnizioni e molto consigliato abbiamo una volcica tubo poi da parete che costa 25 euro beh questo io onestamente non lo consiglio particolarmente perché a questo prezzo si trova anche da altre parti è onestamente quasi tutto di plastica quindi come dire non è che dura eccessivamente poi col fatto che questi avvolgi avvolgi tubo spesso perdono rischiate di bagnare il muro anche di rovinarlo ecco abbiamo a 10 euro il distributore a due vie questo è molto interessante perché se voi fate entrare l'acqua da qui poi la potete far uscire da due diversi ad esempio irrigatori ad impulso e quindi può essere molto molto utile anche un timer per cui potete selezionare i tempi di irrigazione da 5 minuti fino a due ore e la massima pressione dell'acqua è 4 bar quindi insomma va abbastanza bene anche questo è molto consigliato ecco infine abbiamo la pistola per irrigazione che costa solo 9 euro ve la consiglio molto perché veramente è un prezzo buono col fatto che anche il metallo qui dice il raccordo il 30 per cento più robusto rispetto al loro precedente al loro precedente doccetta comunque molto molto consigliato quindi vi consiglio di prezzo